Ma io ero peggio di voi, raga, io ho fatto il primo anno di università, mia mamma mi sbagliò di scrivere, ok? E mi scrisse all'ingegneria delle costruzioni, che io non volevo fare, chiaramente, perché era completamente diversa l'architettura. E praticamente io ho passato il primo anno di università, ho dato soltanto un esame, poi mi sono rotto il cazzo, perché non mi piaceva la facoltà, e ho passato il primo anno di università, ragazzi, io ero tipo sul letto tutti i giorni a non fare un cazzo. Cioè, questo non vuol dire che se tu sei un fallito adesso, lo rimarrai per sempre. Io, ricordatevi questo, ero il più fallito di tutti, io, raga, ho passato un anno a non fare un cazzo, non ho mai imparato neanche a cucinarmi un piatto di pasta, non ho mai lavorato un giorno in vita mia, e fondamentalmente andavo anche male a scuola, quindi io ero il più fallito di tutti, raga. Cioè, è vero, io ero letteralmente il più fallito di tutti, raga. Io passavo le giornate a giocare a League of Legends, che cazzo di futuro potevo avere? Però, poi ho detto, voglio fare qualcosa, mi metto da fare. Ma che competenze hai? Qual è il tuo talento? Bro, so, sono bravo nel marketing, sono bravo nel marketing, e a predire cosa andrà nei prossimi anni. Quindi ti so dire cosa potrebbe andare, cosa potrebbe non andare, e in più sono anche bravo nel far andare le cose a livello di marketing. Questo è il mio talento, che in realtà sembra una stronzata, ma è il talento migliore del mondo che uno possa avere, perché se ci pensate, vuol dire che qualsiasi cosa potete fare, anche tipo aprirvi una pizzeria, se siete bravi nel marketing, potete farla andare come miglior pizzeria della città, capito?